La Giunta regionale toscana ha trasmesso all'azienda per il diritto allo studio universitario i propri indirizzi in materia di borse di studio, alloggi e opportunità per i trasporti destinati agli studenti, toscani e non, che frequentano le università di Firenze, Pisa e Siena. I provvedimenti sono stati illustrati dal presidente Enrico Rossi, insieme alla vicepresidente Monica Barni, all'assessore ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, al presidente del DSU Toscana Marco Moretti e ai rettori degli Atenei. La Toscana, ha detto Rossi, già riesce a rispondere alle domande di tutti gli aventi diritto alle borse di studio. Oltre i 15 milioni che derivano dalle tasse universitarie, oltre ai 20 milioni che derivano dallo Stato centrale, la regione toscana di propria iniziativa aggiunge 26 milioni. E questo consente di dare una risposta che va anche oltre i diritti degli studenti, quindi non solo riusciamo a contemplare il 100% degli aventi diritto, ma a fare anche altre cose in più positive. E questo attrae anche in Toscana molti studenti che si formano nelle nostre università. Nell'anno accademico in corso sono state erogate 14.622 borse di studio, così distribuite tra gli Atenei, 5.300 a Firenze, 5.845 a Pisa e 3.477 a Siena. Guardando alla composizione degli aventi diritto, il 70% è formato da studenti fuori sede, sia toscani che non, che hanno necessità di un alloggio vicino all'università frequentata, obiettivo dichiarato dalla vicepresidente della regione Monica Barni, non affidarsi alle logiche di mercato per garantire il diritto allo studio. Abbiamo le soglie ISEE e ISPE al massimo dei livelli possibili. Abbiamo quest'anno adeguato, sulla base degli adeguamenti ISTAT, l'abbiamo accolti subito, sia il costo delle borse, poi abbiamo aumentato il contributo affitto, perché siamo consapevoli che nel corso dell'anno ci sono molti studenti che ne avrebbero diritto e che non possono accedere alle residenze universitarie e quindi durante questo periodo noi aumentiamo il contributo affitto per gli studenti fuori sede. E' chiaro che poi nel corso dell'anno tutti gli studenti che vogliono e ne hanno diritto possono accedere alle residenze. Nello specifico, dal prossimo anno accademico, l'assegno mensile per il contributo sugli affitti passerà da 175 a 250 euro, cioè da 2100 a 3000 euro all'anno. Chi è fuori sede e non usufruisce di una borsa di studio potrà contare anche su un servizio di supporto nella ricerca dell'alloggio sul mercato privato a prezzi congrui. Cambieranno anche i valori degli indici che misurano la situazione economica in relazione alla dimensione della famiglia, cioè l'ISEE che passerà da 23.000 a 23.500 euro e l'ISPE da 50.000 a 51.100. Per gli studenti disabili l'ISEE salirà da 30.000 a 30.500 euro e l'ISPE da 60.000 a 61.100. La scadenza per richiedere la borsa di studio poi sarà anticipata da metà settembre al 30 agosto. Un'altra novità importante è quella delle fasciazioni ISEE, cioè erano tre fasce ISEE, le abbiamo ridotte a due, quindi da 0 a 15.000, adeguandoci in questo modo alla no tax area delle università. Quindi tanti studenti potranno passare dalla fascia 2 alla fascia 1. Questo significa che tanti studenti potranno godere di una borsa incrementata. Poi c'è la questione dei trasporti, per esempio, cioè con la carta unica per lo studente stiamo incrementando sempre di più i servizi che possono essere goduti dagli studenti e quindi i trasporti. Siamo addirittura ad arrivo anche su un accordo su Pisa e su Siena. Tutta l'offerta culturale che prosegue e si incrementa l'offerta su sanitaria, quindi corsi su stili di vita su supporto psicologico e poi stiamo chiudendo anche l'accordo sui medici di base. L'accordo con il sistema sanitario interessa in particolare gli studenti, tanti che arrivano da fuori Toscana e che si iscrivono nelle università della Regione. Il diritto allo studio in questo caso è più spettatore interessato che attore perché è di competenza della sanità che è sempre sotto il cappello della Regione Toscana ma è un altro servizio. Comunque in generale gli studenti italiani che vengono da fuori Regione devono registrarsi in Toscana per il medico di famiglia. Molti non vogliono perché così perderebbero il diritto quando sono a casa di poter andare dal medico invece magari preferiscono farlo con la famiglia. Ecco, con le proposte che stiamo studiando adesso insieme alla sanità prevediamo l'idea di fare una soluzione che copra sia il loro stare a casa che il loro stare in Toscana così che non debba rinunciare al servizio della loro regione di provenienza. Tra le novità in materia di diritto allo studio ci sono quelle che riguardano la mobilità illustrate dall'assessore ai trasporti Vincenzo Ceccarelli a partire dalle agevolazioni previste per gli studenti che si muovono nell'area fiorentina. Mi sembra quella fatta con Firenze una proposta e una soluzione molto avanzata che è stata possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Firenze con l'Università di Firenze e con l'Azienda per il diritto allo studio oltre che noi Regione. Dare l'opportunità a chi è iscritto alla Facoltà Fiorentina di poter utilizzare tutti i mezzi di trasporto sia su gomma sia su ferro che sono in servizio nell'ambito della città metropolitana credo che sia veramente una cosa molto vantaggiosa con un pagamento di 48 euro all'anno che va ad ampliare quelli che sono i servizi contenuti nella carta dello studente. Sono poi in fase di conclusione le convenzioni con le aziende di trasporto CPT e TM nelle altre due città universitarie Pisa e Siena. A Pisa gli studenti sia residenti che non residenti e con ISEE inferiore alla soglia di 36.151 euro avranno a disposizione una tariffa agevolata di 16 euro per l'abbonamento mensile sulla rete urbana mentre a Siena le tariffe per i possessori della carta dello studente toscani e non toscani saranno scontate del 30 o del 40% rispetto a quelle già ridotte per le fasce ISEE. Essendo situazioni abbastanza diverse avranno comunque un trattamento di favore nei confronti degli studenti per quanto riguarda Pisa con il rinnovo di un accordo che era già esistente rivolto ai titolari di abbonamento che rientrano nell'ISEE con sconti molto vantaggiosi. Stessa cosa per quanto riguarda Siena è in fase di discussione con Università, con il Comune e con l'azienda TM la possibilità anche per quegli studenti di dare delle opportunità che siano in linea con quelle che ho già citato. L'altra cosa che vorrei ricordare visto che parliamo di studenti è che con una scelta e una collaborazione con Trenitalia noi nel mese di agosto manderemo tutti i diciottenni molti dei quali ovviamente sono anche studenti gratis a viaggiare sui treni della Toscana cercando in questo modo di fare un avviamento un invito a scoprire e ad utilizzare il treno ma dall'altra anche quello di visitare la Toscana una Toscana che può essere quella del mare che può essere quella delle città d'arte ma che può essere anche quella di tante aree interne che sono comunque meravigliose e possono essere scoperte appunto con il treno che è un mezzo a bassissimo impatto ambientale. E poi naturalmente c'è il capitolo dei posti letto a disposizione degli studenti negli alloggi universitari al 31 dicembre 2018 erano 4.706 1.692 a Firenze 1.758 a Pisa e 1.436 a Siena nel corso del 2019 a Pisa ne sono stati aggiunti 60 in convenzione nel 2020 a Firenze in Viale Morgagni ne arriveranno altri 120 e altri 240 ancora a Pisa nella residenza San Cataldo nel 2021 novità che rendono ancora più solido il diritto allo studio della Toscana Il diritto allo studio della Toscana è all'avanguardia a livello nazionale perché offre agli studenti prima di tutto la certezza di ottenere la borsa quando ne fanno richiesta sempre rientrino nei parametri e poi tutta un'offerta di servizi che li mette in condizione di studiare di mettere lo studio al centro della loro vita per cui hanno l'alloggio e se non prendono il posto della residenza universitaria da quest'anno ha un contributo circa 3.000 euro l'anno per trovarlo sul libero mercato hanno il pasto gratuito a pranzo e a cena e poi se sono fiorentini hanno anche l'accesso gratuito ai mezzi pubblici ovviamente a questo si aggiunge il fatto che hanno l'iscrizione gratuita all'università quindi sono messi in condizione di poter mettere lo studio al centro della loro vita nel complesso nelle università toscane l'anno scorso sono stati dispensati più di 3 milioni di pasti e la spesa totale tra borse di studio e altri contributi per gli studenti è stata di oltre 46 milioni di euro una macchina complessa che è stato ricordato funziona anche grazie al contributo di chi nel diritto allo studio lavora ogni giorno che è un'esercizionale che è un'esercizionale